Va detto che quando si manifestò la presenza di un serial killer, comunque di una serie di delitti maniacali, la polizia italiana, parlo polizia, carabinieri e anche noi giornalisti eravamo tutti impreparati a questo fenomeno. Questo è un punto di partenza e quindi si facevano indagini e noi si scriveva seguendo i metodi tradizionali dei vecchi delitti. E quindi non esistevano profili comportamentali, non si sapeva qual era la mentalità di un serial killer, che cosa lo spinge ad uccidere, eccetera. A parte che poi qui già nell'Ottocento c'erano stati dei serial killer che non si chiamavano così, ma insomma figline, il famoso ammazza bambini, famoso perlomeno a livello locale, è una realtà toscana. Si aprì un dibattito, ricordo sui giornali, sulla base di una lettera scritta da una madre, ma è giusto far finta di uscire io e mio marito, andare al cinema e lasciare la casa ai nostri figli. Si parla di vent'anni fa, i costumi erano un po' diversi e si cominciava a dire sì, in fin dei conti sì. Il mostro ha cambiato forse anche alcune abitudini. Qui a Firenze ha una splendida caratteristica, quella che in due minuti uno è in una campagna stupenda. Quella campagna stupenda era diventata paurosa, all'improvviso aveva cambiato la cultura, le abitudini. Poi c'era stata la reazione tipica sempre del toscano che cerca di esorcizzare le paure con un sarcasmo anche crudele, cattivo, è cattivo anche nel sarcasmo, nel crudele, per cui il mostro aveva dei soprannomi Cicci, il mostro di Scandicci e cose di questo genere qui, orrende barzellette che circolavano. Che senso aveva questo gesto? Rivisto dopo, io lo interpreto così. Se si ritorna a quello che era l'atmosfera a Firenze nel 1985, che era una situazione di, non dico di panico, ma comunque quasi, o di grande preoccupazione, se un sabato sera una ragazza o un ragazzo dopo mezzanotte non rientravano, scattava l'allarme dei genitori alla questura direttamente. Allora guardiamo come si è comportato il mostro quella volta. Ha ucciso degli stranieri, nessuna denuncia di scomparsa. Per la prima volta si è preoccupato di nascondere i corpi, cioè di ritardare la scoperta del delitto, rinchiudendo la ragazza nella tenda e nascondendo il corpo del ragazzo nella boscaglia. Quindi aveva bisogno di tempo. Perché? Perché doveva far arrivare la lettera con il pezzo di Lembo prima che venissero scoperti i corpi. A quel punto che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che gli inquirenti, gli investigatori, in maniera inequivocabile perché c'era un pezzo di carne umana, sapevano che c'era stato un delitto, ma non solo non sapevano chi era il responsabile, non sapevano neanche dove erano le vittime. La cosa non gli è riuscita per un paio d'ore. Un cercatore di funghi trovò i corpi due ore prima che la lettera arrivasse in procura. Era una beffa, terribile. La Toscana ha generato molti misteri inquietanti. La Toscana, e Firenze in particolare, è schiava di un'immagine che gli è stata costruita sopra nell'Ottocento, credo dagli inglesi, come una città solare, una città armoniosa, la città del rinascimento. È vero che è la città del rinascimento, ma non è una città rinascimentale, è una città medievale, è una città di pietra, e di pietra fatta di spigoli. Non c'è spazio per il verde, o se c'è il verde è nascosto. È una città cattiva, è sempre stata. Sono stati commessi qui dei diritti atroci, basta andare in Piazza Signoria e guardare sotto la loggia dei Lanzi. Sono cose sublime, ma è come se ci fosse a Firenze una vena di sadismo e di violenza che scorre sotterranea e poi quando emerge prende delle forme sublime. Questa lava si solidifica nel Perseo che mostra la testa, nei stupri terribili, magnifici, del Giambologna. Però è una città che se tu la vedi d'inverno, è una città grigia, una città in cui l'Arno giallo porta giù di tutto, alberi, carogne di animali. È una città fatta di strade buie, strette, piccole. È stata deformata dagli inglesi, camera con vista, ma la vista è diversa. La mia opinione è che esiste un solo movente, che è quello maniacale, nel senso che i delitti sono compiuti, commessi da un maniaco. I delitti sono commessi non solo con la stessa pistola e con lo stesso coltello, ma con le stesse modalità, mi riferisco ai tagli sulle vittime. L'assassino, e quindi è sempre lo stesso, fa un'operazione che non dovrebbe fare. Li fa perdere tempo, rischia di sporcarsi e non ha apparentemente alcun senso, ma la fa sempre. I tecnici delle FBI dicono che questo è il vero scopo del delitto, inconscio, il vero movente. Cioè l'assassino ogni volta prende e trascina il corpo della ragazza a distanza di alcuni metri da dove l'ha uccisa. Questa è la firma del delitto, lo chiamano la firma, riprendersi una donna a un altro uomo per riprendersi una donna che gli è stata tolta con la forza. Non si capirebbe altrimenti perché debbano aggredire una coppia e non una donna sola. Questo assassino ha bisogno della presenza di un rivale e ogni volta, dopo che è morto, compiuta tutta l'operazione, prima di andarsene, torna dall'uomo e gli dà due o tre piccole coltellate quasi a sprecio. Io torno a ribadire l'idea che il mostro sia un assassino solo e un serial killer. Qui abbiamo a che fare non con una persona che sa fare come un medico, come un chirurgo, come è stato scritto, delle operazioni che poi non vengono mai fatte fortunatamente, ma con una persona che in qualche maniera sa usare le mani degli strumenti, come il 90% dei serial killer tra l'altro, a noi cronisti ci fu mostrato tanti anni fa le ferite fatte sul corpo delle ragazze riportate in maniera schematica su un computer e sempre i movimenti, il punto di partenza che era a ore 10 e il corpo eccetera, la pressione eccetera, era un rapportabile a una stessa mano, così come allo stesso coltello. L'unica pista che può dare dei risultati, dei riscontri oggettivi, e questo è sempre stato detto non solo da noi giornalisti, ma dagli inquirenti, è quello che consentirebbe di ritrovare la pistola. La pistola è l'unica maniera, è l'unico oggetto, l'unica prova che può inchiodare il responsabile. Ora su questa pistola esiste un mistero, lo abbiamo già detto, che una pistola usata per un omicidio non viene data a nessun altro, a nessun titolo, non si vende, non si presta, niente. Nel caso del nostro assassino del 1968, e sappiamo con quasi 100% di sicurezza chi aveva quell'arma, evidentemente non l'ha distrutta. Quindi ha cambiato mano, ma non è stata sceduta. Esiste una sola possibilità per cui un'arma cambi, quest'arma abbia cambiato proprietario, che sia stata sottratta con un furto.